Si chiama Sheila Rodden, è una ragazza di 26 anni di età la quale è precipitata dalle montagne russe all'estero ha fatto un capitombolo di ben 9 metri, un incidente terribile e devastante che ha colpito tutti il teatro di questa immane tragedia è Melbourne, ci troviamo in Australia la ragazza adesso si trova in gravi condizioni nel reparto di terapia intensiva di un ospedale di Melbourne per colpa delle lesioni che purtroppo ha riportato è stato un incidente pazzesco, forse se c'era qualcun altro al suo posto avrebbe perso subito la vita la ragazza adesso si trova in un reparto di terapia intensiva, è in coma da come si legge sul web e si troverà in coma ancora per moltissimo tempo praticamente è quasi tutto rotto, non c'è qualcosa che si salva come lo stesso medico ha ammesso di recente le dinamiche e le dinamiche sono abbastanza gravi, purtroppo la ragazza addirittura è stata sbazzata fuori una posta di sangue che è stata ritrovata, i medici, i parametri hanno soccorsa però è in condizioni disperate, vediamo se riuscirà a salvare la pelle oppure no dal vostro narratore italiano di Youtube Italia Tutto, ciao a tutti e una buona giornata